In questo momento difficile, siamo tutti chiamati a non mollare. Continuiamo a credere nei valori importanti, come la nostra agricoltura. Un'agricoltura che oggi è più forte, più tenace, responsabile e attenta per produrre cibo buono, come il riso. Alimento straordinario, perfetto per la nostra alimentazione. Diamo valore al riso italiano. Ordina risomelotti su melotti.it Diamo valore al riso italiano.